Il Presidente di Fondazione Futura Buongiorno a tutti, la Fondazione Futura è collegata all'Associazione Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia che mette insieme oltre 300 piccoli e medi comuni. Io sono stato sindaco per 10 anni in una piccola comunità in provincia di Lecce e oggi volevo parlarvi di questo, come un piccolo comune come il mio nel 2010 ha pensato di mettere in piedi una prima comunità energetica, quando ancora non si parlava di comunità energetica. Questo perché lo voglio raccontare? Perché è un modo per trasformare quei borghi, quelle comunità in comunità ospitali, in comunità dove i turisti e i cittadini si sentono cittadini temporanei di quelle comunità. Per fare questo bisogna creare dei borghi intelligenti, bisogna creare delle infrastrutture che possano dare la possibilità al cittadino di vivere bene, cioè misurare la qualità della vita attraverso il grado di benessere delle comunità. Cosa abbiamo pensato 10 anni fa di mettere insieme? Di mettere insieme dei cittadini, di non farlo con le multinazionali, di farlo con le maestranze locali, abbiamo preso 30-29 abitazioni per l'esattezza, abbiamo costituito questa mega cooperativa di comunità nella piazza principale del paese e abbiamo realizzato 29 impianti. Una cosa molto semplice, dove il cittadino mette a disposizione il tetto, la cooperativa fa l'intervento sui propri detti, il cittadino utilizza l'energia e prende il surplus, allora c'era il quarto conto energia, quindi era anche molto più facile mettere in piedi una struttura del genere, la cooperativa di comunità prende l'incentivo attraverso un accordo con il GSE. Abbiamo creato un piccolo modello virtuoso, non abbiamo inventato nulla, anziché farlo singolarmente come si poteva fare allora con il terzo o quarto conto energia, l'abbiamo fatto mettendoci in rete, ma la forza di quel progetto che sta nel cuore delle comunità energetiche oggi è che quegli utili vengono riversati all'interno della comunità. E cosa abbiamo fatto con quei soldi? Abbiamo pagato la mensa scolastica ai bambini che appartengono a famiglie con un reddito di sé bassa, abbiamo pagato per esempio i libri di testo ai ragazzi che vanno a scuola. Perché sto raccontando questo? Perché attraverso l'energia rinnovabile, attraverso la creazione di borghi intelligenti, attraverso il mettere prima in gioco le persone, le comunità, abbiamo creato un'economia virtuosa, abbiamo creato benessere all'interno della nostra comunità. Da lì poi sono nate tutta una serie di realtà anche fuori dalla mia comunità di Melpignano. Quindi l'obiettivo è quello di creare una comunità, una destinazione dove il cittadino sta bene, vive bene, dall'altra utilizzando le fonti rinnovabili. Un ultimo inciso, noi viviamo ancora, lo dico sempre nei miei interventi, nell'era del fuoco perché per venire qui oggi abbiamo bruciato carburante, per riscaldarci continuiamo a bruciare carburante. Forse è arrivato il momento di invertire la tendenza di puntare veramente, non più finanziando le fonti fossili perché ancora oggi si finanziano le fonti fossili, ma puntare sulle energie rinnovabili e provare a mettere insieme il pubblico e il privato che è fondamentale per avere una forte sinergia, per poter dare quelle risposte a quelle piccole comunità. Grazie. Grazie a lei. 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 Grazie a lei.